Bella faccia, benvenuto in questo nuovo parkour di Minecraft! Me ne vado? No, 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 aspetta, è un parkour diverso, ehi, è un parkour diverso! Me l'avevi promesso? Questa volta, no, ascolta, è un parkour con le ali. Allora, prima di tutto loro hanno lasciato talmente tanti mi piace nello scorso parkour che sei obbligato a farlo. Ok, lasciateli ancora. Sì, lasciate tanti mi piace. Questo però è un parkour con le litra, quindi il primo livello è questo qua. Sono curioso perché sinceramente, oh cavolo, non l'ho ancora provato, ma... Santiago de Compostela! Ma è bellissimo! Ma dove bisogna andare? Nei cerchi? Oh! Eh, vabbè, però, così... Vai, vai, vai! No! Vai giù! Vola, stupidone! Sono fatta! Ah, quindi ogni volta che attraversi un corso ti dà... Oh! Che vero è bellissimo! Ok, ho capito, ho capito cosa devo fare. Finalmente hai trovato un gioco bello. Mannaggia! Sì, ma io sono troppo scarso. Aspetta, eh! Ma quindi ogni volta che attraversi... Ma io... Ma perché faccio così schifo io con le litra? È proprio scarso! E pensare che tutti mi hanno detto nei commenti... Ah, Kendall, ormai sei migliorato con le litra, sei diventato bravo. Guarda, guarda, guarda. Dai, pian piano. Vedi? Basta... Il trucco è essere in terza persona. Guarda, guarda. Grazie, è vero. Di sopra, di sopra, di sopra. Di sopra? Di sopra, tutto, tutto. No, no, non ce la faccio. No! Aiuto! Mi serve un rezzetto, me la faccio, cosa fai? Ciao! No, anche io non ce... Eh, è difficilissimo. Ragazzi, mi raccomando, se volete vedere degli altri video di questa mappa, lasciate tanti mi piace. Adesso cerchiamo di completarla. Allora. Vai! Un altro. I razzetti, se rientri più volte nello stesso cerchio, te li ridà. Quindi se torni indietro, te li ridà. Ma c'è, tu sei un ladro, allora. Ma cosa? Porca miseria. Aspetta, allora. Sei sicuro di questa cosa? Sì, l'ho appena fatta. Allora, vediamo. Oh, porca miseria. Aspetta. Allora, devo rientrare in tanti bu... Ma così è come barare. E poi, se non lo... Eh, però, se non lo usi... Guarda, guarda, ce lo faccio. Grazie per ascoltarmi. Se non lo usi e ci arrivi, puoi averne due. Quindi ce ne... Ah! Ok, ok. E vabbè, parlo con uno. Ce l'ho quasi fatta. Ti sto ascoltando. Ma non ho più i rezzetti. È difficile. Dove sono i miei rezzetti? Ok, aspetta. Facciamo così. Salto un livello. E vado dritto qua. Salto un livello? No, no, non puoi mica. Oh, mio Dio, ma questa mappa è stupenda. È difficile. Oh, guarda. Ce la sto facendo. Sentite come è concentrata. Ce la sto facendo, bella faccia. Sono alla fine. Ho vinto. Ho vinto. No. No. Mi ha fatto ritornare indietro. Bravo. Perché ho mancato un cerchio. Guarda, aspetta. Porca miseria. Ti faccio vedere io come si fa. Tata. Tata. Eh, vabbè. Però sono proprio un nabbo. Non ci posso credere. Ragazzi, mi raccomando. Tanti mi piace. Se volete vedere un altro video in questa mappa. Quindi ti sta piacendo. Eh, per ora sì. Però è già molto complicato. Quindi mi stai dicendo che finalmente ho trovato un parkour che ti piace. Sì, ma non riusciamo ad andare avanti. Però non sempre me lo dà quando passo al centro. Oh. A volte non me lo dà. Ma dove devo andare? Sono andata. Sono riuscito. Oh. Guarda. Oh, mio Dio. Ce l'ho fatta. Oh, no, no, no. Ma dove cavolo? Ce l'ho fatta. Ora bisogna andare. No. Aspetta. No. 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 Ma che cavolata. Ma non è giusto. Non è giusto. No, sono qua. Guarda su, guarda su. Guarda, io devo entrare qua. Devo riuscire ad entrare qua. Ce l'ho fatta. Ma è da prima che dovevi entrare lì? Ah, no. Mi sa che quello si c'entra dopo. Devi prima entrare. Senti, io voglio fare il prossimo livello per la faccia. Livello 2. Allora, qua c'è scritto che è facile questo livello, eh. Livello 2 è facile. E questo di prima era facile? Vediamo. Oh, ma che è sta città? Ma è bellissimo. Ma non mi aspetta mica. No, che non ti aspetto. Chi se ne frega di te. Ma dove sei andato? Guarda, qua c'è la freccia. Io me ne vado. Bisogna seguire le frecce. Fare così. Oh, guarda quanti razzi c'ho. Ma è bellissima questa città. E ora dove bisogna andare? Oh, no. Mi sono perso. Io sono entrato nel livello 2, eh. Anch'io. Io sono già avanti nel livello 2. Sei già caduto. No, no, no. Non sono caduto. Oh, ok. Stavo cadendo. Diciamo che è un parkour particolare. Non è come i soliti parkour, eh. Sì, non è un parkour con i salti. È un parkour con l'elitra. Dai, dai. No, no. Non ci credo. Me la faccio per mezzo blocco. Non sono riuscito a passare. È troppo difficile comunque, eh. Oh, ste gare con l'elitra sono troppo belle comunque. Sì, però facciamo la gara, dai. Dovrebbero fare più mappe così. Torda qua, torta qua. Vuoi fare gara? Eh beh, direi. Ma sei sicuro? Sei pronto? Aspetta, aspetta, sono buggato. Tre. Guarda, sono una libellula. Tre. Aspetta, non riesco a sbuggarmi. Due. Uno, via. Uno, via. Che vado. Barone. Guarda che faccio io. Oh, ma non ho i razzetti. Eh, neanche io. Non te li dà all'inizio perché c'è comunque la caduta libera. Ora te ne dà uno. Ok, devo riuscire a entrare là dentro. Io non ce la faccio ad arrivare lì senza razzi. Io sì. Bam! Bam! E chi è il migliore? I razzi quando non servono, non li devi usare. Oh, ok. Vabbè. Se li continui a sprecare poi non ce la farai. Di qua devi andare, mio caro. Ok, ok. Mio carrot. Mio carrot? Mio carro. Oh! Oh, no. Sì. C'è il capo. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Guarda, 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 guarda. No. Boh. Ok. Guarda chi è avanti a te. Io? Sono io avanti a me. Sei tu avanti a te. No. No. Porca miseria. Non so se ce la faccio. Guarda cosa ce la faccio. Ce l'ho fatta. Guardami, Gwendal. Guardami. Non mi chiamare Gwendal. È Kendall. Guarda, guarda. Va piano, piano, piano. Piano. Ed ecco la. La fine. No, tu ne hai mancato uno, ho detto. Non hai vinto, non hai vinto. No, ho vinto, non è vero. No. Andiamo, facciamolo un altro. Lo scelgo io. Sai cosa? Voglio provare a fare il livello difficile stavolta. E dov'è? Qua c'è medio, questo è medio. Questo, questo, mi piace. Oh, mio Dio. Perché il livello 7 dice che è facile e non può essere? Ma dove sei? Dove sei entrato? Andiamo a questo dell'albero che mi piace. Il livello medio? Ok. Vuoi proprio essere distrutto allora. Ma stai zitto. Vai, chi salta, salta. Guarda che foresta. Chi non salta, salta. Chi non salta, non salta. Porca miseria. Vai, io ti seguo allora. Vai dritto. Non seguirmi, non vale. Guarda che sono già più veloce di te, altro che seguirti. Chi è davanti a te? Chi è davanti a te? Oh, le caverne naniche. Le caverne naniche. E dove devo andare ora? No. Non ce la farò mai. No, non ce la faccio. E invece ce la faccio. No, che andate al tipo di... Sì, ce l'ho fatta. Oh, sono veramente le caverne dei nani. Sono morto, grazie. Io ce la faccio, io ce la faccio. Aia. Come sei morto? Sono morto, non ce l'ho fatta. Come hai fatto? Sono andato come a te. Aia. No, 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 no. Guarda, guarda. E bam. Ma come faccio a guardare? E ora dove devo andare? Alle caverne naniche. Dove devo andare? Dove devo andare? Ma che cavolo ne so, io sto arrivando. Non vedo più. Bellissimo. Dov'è il cerchio? Ah, è qua. Trovato. Ma è rientrato nelle caverne naniche? Certo. Io non sto offrendo già la mappa, altro che... Ma è difficilissimo. Su. Oh, cavolo. Ho preso un albero. Cioè, vabbè, dove devo andare qui? Dai, che cavolo. No, 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 no. Non mi piace questa mappa. L'hanno fatte i nani. Eh, mio piccolo amico? Eh, mio piccolo amico? Io so da dove l'hai presa tu, mio piccolo amico. Dove l'ho preso, mio piccolo amico? Io sto riguardando How I Met Your Mother. Tu l'hai presa da Barney, che a un certo punto dice a Ted... Eh, mio piccolo amico. Non è vero. Sì, sì. Non lo so. Eh, in casa ho piccolo amico, sai. Oh, ci sono passato. E Gwendo, dove l'ho preso? Eh, dallo stupito che sei. Oh, cavolo. Ti seguo. No, non ce la farò mai. Guarda così. Bam. E ora qua. Aia. Mi aspetti? Ma che col cavolo che ti aspetto? Sono qua dietro di te. Io guarda dove sono. Sì, ma non ce la faremo mai adesso ad andare su in alto. Oppala. Uno. Oppala. Due. No. No. Io ne voglio fare una difficile, questa. Livello sei. Questa è difficile, è nel nether. In uno. Guarda l'albero del nether. Guarda, guardalo. Oh, porca miseria. Ok. Oh, bellissimo. Ma quanto è bello. Allora, qua c'è proprio scritto uno, due e così via. Beh, è facile. C'è scritto che è difficile, dubito. Dove dobbiamo andare? Se è lassù? Ok, ok. Ce la si fa? Ma come fa? Eh, vabbè. Dai, dai, dai. Mannaggia. Mannaggia a te che mi porti. Questo è un bellissimo albero con la casa sull'albero. Ah, bellissimo. Proprio bellissimo. Wow. Beh, è bellissimo, dai. È una bella costruzione. No, no, è bellissimo. Tu sapresti fare di meglio. Dritto. No. Per dritto. No, ti spingo così non arrivi. Ce l'ho fatta. Dritto per dritto. Dai, 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 dai. Dai, un razzetto, datemi i razzetti. Ora giù, ora giù, ora giù. E poi a sinistra. Ah, sì, sono morto. Eh, vabbè, se non mi dai razzi. Ma sei in creativa? Non sono in creativa, mi sono morto. Stavi volando. No, no. Non è vero. Eri in creativa. No, te lo suono. Che barone. Ragazzi, bella faccia, è un baro. Ma non era in creativa. Ogni volta che fai parkour deve sempre barare. Ma non è vero. Tra i teletrasporti, la creativa. Ma non è vero. Guarda, vai che roba. Ma. Che c'è? Ma hai ucciso? No. Sì? Ti sei ucciso da solo, forse, me la faccia. Ma hai ucciso? Ma sei in creativa, lo vedo. No, no, sei bugato proprio. Ma perché deve sempre finire così? Quando facciamo il parkour io e te. No, ma sei bugato, sei bugato. No, spiegami perché deve sempre finire così. Sei bugato. Sei bugato, non mi interessa niente. Oh no, asciù. Quanti razzi ti stai prendendo, ladro? Ti sento, ti sento che ti sei preso un milione di razzi. No, vabbè ragazzi, c'è. Che cittone. Ti ho detto che sei vaccato. Non controllo più il mouse. Che cavolo sta scezionando? Eh vabbè, no, è troppo difficile. Io ragazzi non farò mai più parkour con bella faccia in tutta la mia vita. Oh mio Dio, un hacker è entrato nel combino. Sì. Vediamo chi lo finisce prima con i cheat. Eh ma non capisco dove devo andare. Torna indietro e vediamo chi lo finisce prima. Sei pronto? No, aspetta. Fammi prendere i razzi. No, aspetta, allora me li prendo pure io. No, no. Pronto? Tre, due, uno. Via. Oh, porca miseria. Ok, ok. Chi lo finisce prima con i cheat? Che stupido, che sfida stupida. Chi è primo? Io. Oh, devi prendere tutti i cerchi ovviamente. Adesso? Adesso qua. Qua su. No, 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 no. Mi sta battendo. Adesso su. No, 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 no. Dove è questo? Non è possibile. È questo? Non è possibile, mi sta battendo. No, 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 più veloce, più veloce. Più veloce, più veloce. Porca miseria. Ne è mancato uno. Che nabbo, non hai vinto. Io invece sì. Ragazzi, mi raccomando, lasciate un super mi piace se vi è piaciuto questo video delle sfide e delle gare con l'Elytra. Al vostro Kendall è tutto. Adesso ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao! Ciao!